Salve, ciao, buonasera a tutti amici. Vedete, questa sera è un colloquio diverso, un incontro diverso dal solito. È un colloquio diverso perché dopo 70 giorni di carcere abbiamo potuto finalmente apprezzare i profumi, gli odori. Ecco, in questo momento voglio che siate con me, in questo momento bucolico, di profumi, di sole che sta tramontando, di grano, di verde, le cose belle, fantastiche, quelle che la nostra vita, la vita per cui siamo nati, la nostra terra, le spighe di grano. Ecco, volevo partecipare con voi a questo momento perché perché ci stanno togliendo la vita, ci stanno togliendo l'Italia, ci stanno togliendo la terra. Guardate, questo è un momento veramente drammatico e mi fanno un po' pena, un po' tenerezza, quelle persone che esprimono commenti sciocchi, stolti, parolacce, mentre noi stiamo soffrendo, soffrendo dopo noi cinquantenni, sessantenni, settantenni, dopo aver vissuto decenni lavorando, creando, combattendo. Ecco, in questo momento ci sentiamo disarmati, ci sentiamo senza forze di fronte a una forza colossale. È una forza colossale. Vi devo dire che stasera sono particolarmente malinconico. Perché? Perché al di là di noi che colloquiamo di questo gruppo di cittadini fantastici con cui tutte le sere alle 19 rincorriamo le nostre idee, i nostri cuori per darci forza l'uno con l'altro. Ebbene, la stragrande maggioranza degli italiani ormai sembrano assopiti. Io non riesco a concretizzare, non riesco a comprendere come mai fino ad oggi siamo stati vilipesi in tutta la nostra anche dignità. Voi pensate che siamo usciti da casa timorosi, con gli sceriffi in mezzo alla strada, che ci fermano, ci fermavano, ci fermeranno. Dove stai andando? Da chi vai? In maniera pazzesca. Cioè, ci hanno privato, ci stanno privando dei profumi della vita. E noi stiamo zitti. E noi purtroppo siamo succubi. Un gruppo di noi, i più caparbi, i più volenterosi, siamo andati nelle procure, abbiamo fatto le denunce, stiamo combattendo. Ma siamo una piccola entità, gli altri. Dove stanno gli altri cittadini italiani? Dove stanno le unioni sindacali? Dove stanno le corporazioni? Dove sono? Dove è la Confindustria, la Confcommercio? dove sono le grandi associazioni? Dove stanno? Ma perché non urlano alla libertà rapita? Nessuno. E questo mi rende molto malinconico. Molto malinconico. Allora, oggi ci sono notizie ancora peggiori per noi. Vedete, da stamattina circola una notizia che è pazzesca. Ecco, questa vi deve far rendere conto del, come posso dire, della scientificità con cui ci stanno facendo tutto questo. Non ci sono persone incapaci, nette, no! È tutto scientifico, è tutto quanto sembra, tutto quanto scientemente organizzato. Ecco, la notizia che mi rende molto malinconico, che ci deve terrorizzare. Anche i cittadini che fino adesso hanno fatto finta di niente, devono essere terrorizzati. Stamattina la protezione civile ha fatto sapere che chiederà al governo, ovviamente sono tutti loro, non è che uno stanno da parte. Loro, la Cassa, chiederà e se lo chiederà, lo deciderà di prolungare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre del 2020. Cioè noi, l'Italia, sarà sotto questa dittatura, questa egemonia, per altri sei mesi. Cioè, ma vi rendete conto? Guardate che non è solo una questione psicologica, perché è chiaro, emergenza? Ecco, decreti legge, ecco, le norme, ecco, i decreti del Presidente del Consiglio, non potete andare in chiesa, non potete andare al supermercato, dovete stare in casa, non potete andare a passeggio. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non eletto dal popolo, che deciderà in maniera monarchica, senza neanche il Parlamento, qualsiasi cosa della nostra vita. E questo stato di emergenza significa che non ci sarà più democrazia come non c'è stato adesso, per esempio negli appalti, tutti quanti gli appalti, tutti dati così. Questa ditta, come 35 miliardi dati alla ditta della Regione Lazio che vendeva lampadine e che ha truffato la Regione Lazio con 11 milioni, cifre enormi, sottratte ai cittadini, sono soldi nostri, abbiamo lavorato, sudato per questi soldi. E nel frattempo, per fortuna abbiamo i profumi, il grano che sta maturando e noi per questa nostra terra vogliamo ancora lavorare e produrre. E nel frattempo in questa commissione di poteri forti che ormai incombono su di noi in maniera raccapricciante, allora vi faccio vedere due piccoli titoli per comprendere perfettamente che dobbiamo sapere quello, il percorso che stiamo imboccando, il percorso del non ritorno. E ecco, vedete? Eccolo, trappola mess, il famoso mess europeo che ci distruggerà. Ed ecco, vi faccio vedere il trucco quale sarà, guardate, il salva stati, il famoso mess, è pronto al decollo, nessun controllo della Troica. Adesso ne parliamo della Troica e guardiamo però il sottotitolo piccolino, eccolo, leggete. ma il finanziamento coprirà solo le spese sanitarie, nessun'altra spesa. Quindi ci racconteranno si potrà avere il prestito, non ci sono problemi, sono soldi che arrivano dall'Europa in Italia, però non ci racconteranno che quei soldi, quei piccoli soldi che ci daranno saranno solo per le spese sanitarie. Tutto il resto che ci servirà per sopravvivere saranno soldi che dovremo restituire e se non li restituiremo entro i termini previsti arriverà la Troica e l'Italia sarà distrutta completamente, comprata completamente a due soldi come è stata distrutta la Grecia. Ecco, queste sono notizie, non stiamo facendo, vedete? Sempre qualche stolto pensa che stiamo facendo politica. Noi stiamo parlando delle nostre coscienze, delle nostre vite, dei nostri figli, dei nostri sacrifici, di noi stessi, del popolo italiano, del popolo italiano che in questo momento è sommerso, represso in maniera pazzesca e ci deve far pensare il fatto che siamo supini. È pazzesco quello che stiamo subendo ed è pazzesco che nonostante quello che stiamo subendo vogliono peggiorare ancora il nostro Stato con altri sei mesi di Stato emergenziale. Oggi, oggi, malinconico, non voglio pensare alla nostra reazione democratica, civile e giudiziaria, ma voglio pensare, voglio pensare al cielo azzurro sulle nostre teste, ai prati verdi innanzi a noi, al grano che matura, e lunedì, insieme a voi, alle ore 19, troveremo altre strade di battaglia giudiziale, giuridica, democratica, perché il popolo italiano non venga ancora di più schiacciato. Vi voglio bene, ci vediamo lunedì sera.